Non ci sono obiezioni? Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei ai nostri ospiti di contenere intervento entro i 10 minuti circa ciascuno per dare modo ai deputati di porre delle domande, qui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito inter della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocom. Do quindi la parola a Giovanni Maria Flick, già Presidente della Corte Costituzionale. A lei la parola. Grazie Presidente. Per parte mia depositerò al termine della discussione, entro la giornata di oggi, una breve relazione per sintetizzare quello che ho cercato o cercherò di sintetizzare verbalmente prima. Grazie. Nessuna, ovviamente nessuna riserva sui mezzi di pubblicità. E gratitudine per la Commissione per aver ritenuto di dovermi sentire, di dovermi ascoltare, di dover discutere con me. Grazie a lei. Io credo che il problema di fondo è errare umanum perseverare diabolicum. Cioè, intendo dire che, con un lavoro pregevole, complesso, di difficile interpretazione e di problematiche aperte, si è cercato di superare, di colmare le criticità molteplici che vi sono state nel 2001 con la riforma del titolo quinto della Costituzione. sia per il metodo che allora venne seguito, e cioè la ricerca di fermare una tendenza secessionista o federalista al massimo, sia per il contesto, frettolosa riforma alla fine di una legislatura, sia per il contenuto di quelle modifiche su cui si è innestato il disegno di legge attuale. La prima sensazione che ho è che, forse, il disegno di legge approvato dal Senato in discussione oggi dovrebbe essere portato allo stesso livello costituzionale a cui è radicato l'altra riforma fondamentale per il futuro del nostro Paese e della nostra Costituzione. Il problema del premierato, del rapporto Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. A questo punto, il primo problema che mi pongo è il contrasto che si può trovare o le difficoltà di interpretazione nel coordinamento tra l'articolo 116, terzo comma, rinnovato, e l'articolo 3 del disegno di legge delega. L'articolo 116, terzo comma, dice che sono trasferibili tutte le materie di legislazione concorrente del 117, terzo comma, e nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato limitatamente alle lettere LNS, cioè giustizia di pace, norme generali dell'istruzione, tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali. Il primo discorso è che, secondo il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, entro 24 mesi il governo spetta l'emanazione dei decreti delegati. Il comma 3 ricorda che sono nelle materie di cui al 116, terzo comma, l'EP diventa determinante anche per le materie, indicato nel terzo comma, da A a P. Il comma 4, il 5 e il comma 7 poi ricordano che la determinazione delle risorse messe a disposizione per l'attuazione di queste deleghe è fondamentale e che potranno avere effetto i trasferimenti solo successivamente all'entrata in vigore dei distanziamenti delle risorse con strumento, con norme di legge. Ecco, io credo che mi paiono ad approfondire gli effetti non solo economici e finanziari sulle altre regioni, non coinvolte da un trasferimento massiccio di funzioni negoziato da una regione con lo Stato. In particolare mi domando quale sarà la situazione per le regioni limitrofe prossime a questa, soprattutto con riferimento alle materie di legislazione concorrente che hanno carattere trasversale, governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ad esempio. Abbiamo tre esperienze che non dobbiamo dimenticare e che sono abbastanza problematiche per non dire drammatiche. L'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale, promosso al suo tempo con prospettive di eguaglianza e risoltosi in concreto in una spessione di emergenza drammatica. È inutile che parli a voi delle liste di attesa, della mancata presa in carico dei malati cronici, della fuga verso la sanità privata. Ricordavo poco fa con il Ministro Galleroli, quello che a me sembra una perplessità, l'enfasi con cui è stata approvata una legge delega in materia di assistenza sanitaria e sociale agli anziani nel 2023, la pochezza del contributo che è stato dato con un decreto di applicazione e di attuazione a questa prospettiva della legge delega. Ho la sensazione, dalla lettura di entrambi i testi, che il principio di autonomia prevalga su quello di solidarietà, rischiando ulteriormente una frattura già esistente nel Paese e desasperando la differenza dei livelli delle prestazioni sul territorio. Questo rappresenta a mio avviso rispettosamente un ulteriore passo di delegittimazione del Parlamento, già per molteplici aspetti, liste bloccate, numero dei parlamentari, bilanciamento dei rapporti tra Parlamento e Governo, già presente. Io ritengo che l'ulteriore indebolimento possa nascere dal rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio in una sinergia politica e funzionale di questa riforma con legge ordinaria, nonostante le cautele che sono state introdotte, con la riforma costituzionale in corso di attuazione al Senato che tutti conosciamo. La Somma fra di loro a mio avviso rischia di rompere l'equilibrio costituzionale tra i poteri e di creare una commestione difficile da poi sbluscare tra intervento costituzionale e legge ordinaria. La legge, poi state discutendo, prevede per il Presidente del Consiglio il potere di avviare il negoziato con la Regione, di limitare il negoziato a certe impaterie, di predisporre lo schema definitivo di intesa e di non conformarsi agli indirizzi e pareri dati dalle Camere. Infine di aggiornare i LEP con DPCM bypassando le commissioni parlamentari e di disporre l'accessazione di intesi. Mi pare una posizione di primato abbastanza forte, abbastanza nuova. Io non so se sia più giusto parlare di regionalismo differenziato o di centralismo diffuso a questo punto, perché mi pare che intanto che la devoluzione appare più amministrativa che non legislativa come era nel progetto del 2019. Mi colpisce l'attenzione particolare dedicata alle precedenti intese o quello che sono con le tre regioni del nord e con l'approvazione delle relative intese. Mi pare che questo vada valutato per le difficoltà di contemperarsi con i principi costituzionali di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza per le funzioni amministrative e col principio perequativo di solidarietà. E questo è il primo profilo. Il secondo profilo che vedo è quello di un trasferimento di competenze che non si accompagna a un discorso complessivo sull'autonomia finanziaria delle regioni e fiscale delle regioni, che priva tuttora in gran parte di attuazione, nonostante la legge delegacia del 2009. E' preoccupante in relazione anche alle esigenze degli enti locali e alle difficoltà di gestione dei territori provinciali, che non appaiono presi in considerazione nell'uno nell'altro nel disegno di legge. L'articolo 119 della Costituzione e il federalismo fiscale si sono risolti nel corso degli anni, dei troppi anni che hanno accompagnato l'attuazione dell'Istituto regionale. In un intervento massiccio dello Stato per assicurare, da un lato, le risorse ai territori con minore capacità fiscale, che è una cosa. Dall'altro, interventi di risorse aggiuntive e speciali per promuovere lo sviluppo economico delle regioni in difficoltà e indifferenza. Sono due realtà, due concetti, due istituti molto diversi. I LEP però non sono mai stati determinati per legge in materia organica dal legislatore e la determinazione a mio avviso rientra nella competenza esclusiva dello Stato, come previsto dal 117, secondo comma della Costituzione vigente. Alcuni livelli essenziali di prestazioni sono determinati implicitamente da leggi settoriali, però non basta elencarli. Non credo che basti il lavoro compiuto dalla Commissione che ha già operato in questo campo. Occorre garantire l'effettività e le risorse, lo sapete meglio di me, su tutto il territorio nazionale, perché vi arrischio altrimenti che si scivoli inevitabilmente verso la spesa storica e verso il rischio che la spesa storica consolidi ingiustizie che si sono accumulate nel tempo. Credo che le dimissioni fra alcuni, fra i membri con maggiore esperienza, tutti sono pronti e tutti sono preparati, ma alcuni membri di particolare esperienza si sono dimessi dalla Commissione proprio con riferimento al problema dei tempi di calcolo, di approfondimento e di realizzazione. Aggiungo le perplessità dell'ufficio di bilancio del Senato, al di là di quella che è stata la diffusione preventiva, non preventiva, provvisoria, non è questo il tema di cui io posso occuparmi, e le perplessità della Banca d'Italia sui costi di una simile operazione. Quindi il disegno di legge mi pare che presenta tre prospettive di criticità. La prima è nell'iter dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, ed è quella dell'attribuire poteri, a mio avviso molto potenziati, al Presidente del Consiglio. Basterebbe pensare al discorso della deliberazione, norma transitoria dell'articolo 11 mi pare, delle intese, degli accordi già raggiunti con quelle tre regioni. Un'attenzione particolare che potrebbe insinuare il sospetto di una prospettiva di guardare a un prossimo passo di costituzione della famosa regione Padania. Io credo che il parametro costituzionale e testuale dice che alle Camere deliberano o prendere o lasciare, mentre invece una decisione delle Camere non può che essere, che è testuale del criterio esposto dal 116, di deliberare sulla base di intese fra Stato e Regioni, questo è un discorso che non corre esattamente nei termini in cui il 119 ha previsto l'aumento degli stanziamenti da parte dello Stato per colmare le differenze. E qui ho la seconda perplessità all'utilizzo del termine intese, sto avviandomi alla conclusione, l'utilizzo del termine intese direi che è preso dall'articolo 8 della Costituzione che disciplina tutto un altro settore, il settore dell'aumento o del riconoscimento delle libertà delle confessioni religiose. Qui non si tratta di riconoscere libertà, qui si tratta di sostanziamenti di contributi che è una cosa diversa. Credo cioè che il Parlamento dovrebbe avere la possibilità non solo di limitarsi a dire prendere o lasciare, ma di introdurre tutte le modifiche che ritiene di dover introdurre. La terza criticità, l'ultima, attiene alle funzioni che riguardano i LEP e le altre funzioni, non è esplicito il criterio di distinzione. Non si capisce, forse sarebbe meglio che si capisse per quale ragione alcune delle famose tre ipoteli del 119, da un lato nel 119 e l'elencazione delle materie sottoposte a delibera, sottoposte della condizione dei LEP, nell'articolo 2, nelle norme dell'articolo 2 che si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni per la delibera delle sovvenzioni, chiamiamole così, o degli interventi. Non è chiaro a questo punto per quale ragione ci sia una differenziazione che in realtà di fatto poi non ci deve essere perché anche per le funzioni che non prevedono l'EP vale il principio di eguaglianza e vale la necessità di un intervento dello Stato per una perequazione. Un accordo è la perequazione nella materia di capacità fiscale, un'altra accorda diversa è l'intervento per supplire alle diseguaglianze che caratterizzano promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, di cui parla l'articolo 119. Il disegno di legge a questo punto mi pare di capire che crei, possa creare delle perplessità e delle difficoltà che andrebbero rimeditate e andrebbero riesaminate proprio per chiarire temi che evitino di consentire che l'autonomia differenziata possa risolversi o in un'illusione che non tiene conto dei vincoli di denanza pubblica, che non tiene conto, perché non vi è ancora una precisa disciplina, della sostenibilità economica e finanziaria e dei problemi dell'autonomia fiscale regionale. Mi auguro che tutto questo possa capitare per evitare difficoltà di interpretazione, contenziosi, conflitti e tutto ciò che potrebbe pregiudicare un discorso che in buona parte ha degli aspetti positivi. Grazie. Grazie a lei, grazie a Presidente Flick. Adesso do la parola a Ugo De Servo, già Presidente della Corte Costituzionale. Grazie, grazie di essere venuto. Grazie a tutti voi. Io limito le mie sommarie considerazioni critiche a solo quattro punti puntuali, a quattro rilievi puntuali di costituzionalità del testo sul piano formale relativi al testo appunto adottato dal Senato. Lascio ad altri commentatori tutte le numerose possibili critiche sostanziali al testo adottato. Prima osservazione. Ho già avuto occasione, durante l'audizione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato sul testo originario del disegno di legge, di esporre la fondamentale obiezione che qui riporto per la sua evidente, seppur in forma molto sintetica, per la sua evidente e decisiva importanza, secondo il quale il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è stato erroneamente interpretato dal Governo in modo molto espansivo, ben al di là di quanto esso prevede effettivamente, ponendo quindi le premesse per la incostituzionalità dell'intero testo attualmente in discussione. L'adozione, infatti, da parte della Legge Costituzionale 3 del 2001 del terzo comma dell'articolo 116, in base al quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuiti ad altre Regioni, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano invece limiti risiduati a tutela della potestà legislativa statale. Ciò perché nell'articolo 117 Costituzione vigente troviamo disposizioni costituzionali che prevedono in modo esplicito che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva, questo al secondo comma, e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, alla fine del terzo comma. Analogamente prevedono gli statuti speciali. Invece, nel testo adottato dal Senato troviamo, all'articolo 7, terzo comma, che le disposizioni di legge statale coinvolte dal trasferimento cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. Inoltre, il comma quinto dell'articolo 7 prevede che le disposizioni statali successive alla data in entrata in vigore delle leggi di approvazione dell'intese, osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative, nonché le ulteriori disposizioni contenute nell'intese. In altri termini, non sarebbero più possibili leggi statali nelle tre materie esclusive nelle quali si abbiano funzioni attribuite alle regioni in senso dell'articolo 116, terzo comma, né si avrebbero leggi cornice nelle materie concorrenti nelle quali si abbiano funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 116, con evidenti problemi, pensando anche che le leggi cornice invece si applicherebbero alle altre regioni e quindi con tutto ciò che ne può conseguire. In tal modo si avrebbe un radicale mutamento del nostro complessivo regionalismo, malgrado che l'articolo 117 non sia mai stato modificato, neppure nel 2001, mediante un procedimento di revisione costituzionale su questi punti. Il regionalismo differenziato è stato quindi, a mio parere, introdotto nel titolo quinto della Costituzione solo in modo molto parziale e senza alcuna adeguata revisione organica del residuo dettato costituzionale. Si è trattato di uno dei tanti errori del legislatore del 2001 e quindi continuiamo su una linea molto grave che la Corte ha sanzionato molte volte su altri punti, ma ha dovuto sanzionare su molti altri punti. Seconda osservazione. Durante i lavori parlamentari che si sono svolti al Senato, un'opportuna modificazione del testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge governativo ha sottratto l'individuazione dei LEP ai DPCM, dal momento che si è preso atto che questa individuazione deve necessariamente essere operata da fonti primarie e non secondarie, poiché vengono in rilievo diritti civili e sociali. Peraltro, in modo del tutto erroneo, non si sono determinati appositi principi e criteri direttivi per questa nuova delega legislativa, conformemente a quanto prescrive l'articolo 76 della nostra Costituzione, ma si sono mantenuti semplicemente i limiti preesistenti di cui ha i commi da 791 a 801 bis della legge del 22, che si riferiscano però esclusivamente a disposizioni procedurali e non a disposizioni sostanziali, come invece indispensabile per la delimitazione dei diritti civili e sociali. Ovviamente incomprensibile che poi lo stesso articolo 3 del DDL legislativo sembrerebbe ancora volere utilizzare, seppur provvisoriamente, nella determinazione dei LEP, l'articolo 1. Insomma, questo, diciamo, sarà un errore conseguente. Terzo punto. Particolarmente contraddittorio mi sembra che il testo adottato continui a essere intitolato alla attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni al statuto ordinario, ma che poi disponga al secondo coma dell'articolo 11, che le sue disposizioni si applicano anche nei confronti delle regioni al statuto speciali e delle province di Trento e di Bolzano, e cioè di entità territoriali che sono ciascuna disciplinata diversamente dalle altre sulla base di un loro specifico statuto, che prevede pure, e questo bisognerebbe riflettere, appositi decreti delegati e recanti normi di attuazione di ciascuno statuto per ciascuna regione speciale, adottate dalle commissioni miste previste da ciascuno statuto. Infine, come quarto e ultimo rilievo, si può notare che il testo del disegno di legge approvato dal Senato si caratterizza purtroppo per una diffusa oscurità di parte della sua disciplina, nella quale si fa anche rinvio, per lo più generico, a una pluralità di fonti eterogenee non collocate in precisi reciproci rapporti. Tra i vari esempi possibili, oltre a quello appena accennato sul rapporto regioni ordinari e regioni speciali, mi permetto di citare quanto di particolarmente oscuro e, a mio parere, incomprensibile, è contenuto nel secondo comma dell'articolo 10 del testo approvato dal Senato, il quale letteralmente dice, leggo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 168 del 2011, in conformità delle disposizioni di quell'articolo 2 della legge 111 del 23 e nel quadro dell'attuazione della milestone del piano regionale di ripresa e resilienza relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale, missione 1, componente 1, riforma 1, 14, si impara sempre di nuovo leggendo le leggi, certo questa legge sembra scritta da una persona non pienamente lucida. È infatti necessario, più che opportuno, che il Parlamento tenga in attenta considerazione anche recentissima giurisprudenza costituzionale. Io qui cito una sentenza del 2023, quindi voglio dire, non sono andato molto lontano, che ancora molto di recente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza delle leggi oscure o incomprensibili. Grazie. 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 Grazie anche a Ugo del Servo, Presidente della Corte Costituzionale. Adesso io passerei a chiedere alle deputate e ai deputati, sia presenti che in collegamento, se hanno delle domande da rivolgere ai nostri auditi o delle osservazioni. Prima che mi ha chiesto la parola è l'Onorevole Colucci. Prego. Desidero innanzitutto ringraziare vivamente i Presidenti e i Professori per le interlocuzioni che ci hanno accordato oggi. Mi permetterei di far loro un unitario quesito sufficientemente generico perché ci terrei davvero che voi poteste avere spazio di illustrarci ulteriormente rispetto ai tempi ristretti dell'audizione stessa. Ora emerge che questo progetto, questo disegno di legge sull'autonomia differenziata introduce un regionalismo che potremmo definire competitivo. Questo regionalismo competitivo a noi sembra assai distante da quello che è il nucleo della Costituzione che invece ha disegnato un regionalismo di tipo collaborativo, solidaristico. Peraltro nell'intervento del Professor Flick si è particolarmente evidenziata una sorta di incompatibilità ontologica tra questo disegno di legge, questo regionalismo competitivo è questa ancora diciamo abbozzata riforma del Premierato perché poi questa riforma del Premierato la madre di tutte le riforme cambia continuamente quindi non sappiamo più di che cosa stiamo parlando. Come se parlare l'altro giorno, mi permetto una notazione di tipo politico, la Presidente del Consiglio ha detto va bene possiamo anche nominare direttamente il Presidente della Repubblica perché qui l'importante non è stabilire qual è l'assetto costituzionale, piuttosto che qualcuno venga eletto direttamente senza considerare che elementi tipo il premio di maggioranza, il ballottaggio, influiscono proprio direttamente sulla disciplina stessa. Quindi una incompatibilità ontologica tra le due riforme. Io non mi sentirei di parlare di centralismo diffuso ma decisamente di regionalismo differenziato però laddove il termine differenziato mi sembra venga declinato in funzione spregiativa della Costituzione dei principi dell'articolo 3, dell'articolo 5, dell'articolo 119, tutti i principi cardini e fondativi. E quindi io vorrei chiedere loro se ritengono che questa riforma è il combinato disposto tra le due modifichi, quella che è la forma di Stato. E non è una domanda che vuole essere formale, non mi aspetto una risposta formale e so che voi sareste in grado di farci una lezione su questo tema. Quanto sostanziale, cioè come incida sui diritti fondamentali dei cittadini e quindi su quel nucleo della Costituzione che si ritiene essere immodificabile e quindi come possa essere, confliggendo con queste norme sostanziali, il nucleo rigido della Costituzione essere definita incostituzionale. E quindi davvero una domanda generica e vi ringrazio. Grazie Don Revole Colucci, ci sono altri interventi, richiesti di interventi? No, mi sembra di no, neanche in collegamento. Allora prego la parola, facciamo in ordine inverso rispetto, prego. Ma certo il rapporto tra i due disegni di legge è un rapporto, è un rapporto evidentemente esistente ed evidentemente pericoloso, per dirla brutalmente. Io sono un cittadino italiano che abita a Firenze, ha insegnato in tre o quattro università di diverse regioni, la mia famiglia in parte di origine ligure e in parte di origine napoletana. Ora, noi dobbiamo sempre ricordarci di una cosa, che l'Italia così interessante e variata, poi ho insegnato anche in Sardegna, ho insegnato in Campania, ho insegnato a Milano, per dire che più o meno potuto toccare realtà molto differenziate. Il nostro Stato unitario è recente, è un bebè delle nazioni europee. L'unità nazionale del 1861, vedo? Prima andavamo avanti su una decina, 12 stati diversi. I rischi impliciti da questa storia che ci portiamo dietro sono rischi veri. Le società regionali sono mutate, ringraziando Dio molto, si sono omogeneizzate in buona parte, ma rimangono ancora delle diversità immense, tra il nord e il sud, tra l'est e l'ovest, tra le zone all'oglotte e la Toscana, dove si parla ancora l'italiano classico. Voglio dire, tutti i regionalismi i quali accentuino i fattori di diversificazione sono pericolosi. La nostra Costituzione prevede discipline differenziate, ma le prevede mediate da leggi costituzionali. Noi abbiamo 5 regioni che hanno statuti speciali, di questo non bisogna dimenticarsene. Vogliamo allargare questo, vogliamo migliorare, vogliamo... e c'è lo strumento, lo strumento della grande politica di revisione costituzionale. Operare questo attraverso un arricchimento, scusate, delle zone più forti d'Italia può essere oggettivamente pericoloso. Noi disponiamo a livello europeo di alcune delle zone più ricche, più affluenti d'Europa, e alcune delle nostre zone sono le più arretrate. Allora, gettar sale su questa diversificazione, accrescendo i servizi sociali nelle zone ricche rispetto alle zone più depresse, sinceramente senza una grande discussione nazionale. Perché se noi vogliamo introdurre tutte regioni speciali, ma allora discutiamone regione per regione, analiticamente, e non ci può andare invece avanti con norme come quella che mi sono un po' scherzosamente permesso di citarvi incomprensibili, scusate, incomprensibili a chi fa di mestiere il costituzionalista, quindi che dovrebbe essere abituato a leggere e a dedurre dalle norme cosa ne consegue. Ecco, tutto qui, tutto qui, perché poi ci sono i processi politici che non tocca ai giuristi, però, certo, andare su una via scivolosa come questa mi sembra estremamente imprudente, anche perché le regioni speciali hanno ormai un patrimonio di esperienze che potrebbero mettere in comune, diciamo, con le altre regioni, senza andare avanti con questi tentativi così poco chiari nella loro costruzione istituzionale. Grazie Presidente Del Servo, la parola a Presidente Flick. Telegraficamente, perché ho già parlato troppo, io rimango fortemente condizionato dal fatto che una riforma mal riuscita, male applicata, come quella del 2001, si pensi di poterla salvare insistendo in fondo, o di migliorare, o di attenuare, insistendo in fondo sulle stesse caratteristiche. Questo è il primo discorso che mi colpisce, dal punto di vista tecnico-giuridico, perché io non ho competenze politiche, ne intendo venire a sprolocchiare qui su di esse, è il fatto che il federalismo, il regionalismo, si traduce in una trattativa privata, tra il governo e una singola regione. Un domani potrebbe essere una trattativa tra il governo e un consorzio di regioni che si sono coagulate insieme, come dice Gesù, non mi ricordo, quale comma della riforma del 2001, cioè una regione padagna, in cui si coagulano insieme tre regioni. Trattativa A2 e incertezza o incapacità o difficoltà di calcolare le risorse con cui fa fronte a quello che è un aumento di spesa notevole, che non sappiamo qual è, con la pretesa di mantenerlo a invarianza zero. Io credo che ci si debba porre il problema del rapporto di che effetto ha sulle regioni confinanti, sulle regioni finissime, a quelle che vanno a star meglio, che effetto ha il discorso di una diminuzione della, perdonatemi l'espressione, della torta da dividere, perché se io la do a chi sta meglio, ne potrò dare meno a chi sta peggio. Questo, a mio avviso, è riuscente anche dell'aver messo insieme, non nel disegno di legge attuale, ma nella riforma del 2001. Due componenti completamente diverse, l'integrazione sulla capacità fiscale, da un lato, e gli interventi per eliminare una situazione ormai consolidata di diseguaglianza su vari altri aspetti che ci sono. Non riesco a capire come si possa, con un meccanismo abbastanza complicato da applicare, tenere separate le due cose, frazionando praticamente la tematica dell'eguaglianza tra chi ha quelle cose legate ai LEP e quelle situazioni di diseguaglianza che sono endemiche e che non si riesce a collegare con i LEP direttamente. Vedo questo discorso e poi ci vedo la preoccupazione per l'indebolimento del discorso dell'assetto istituzionale. Ripeto, mi sono permesso di elencare i maggiori poteri, a mio avviso, che il Presidente del Consiglio, il Premier, o quello che sarà, avrà, rispetto al Parlamento, che viene bilanciato notevolmente, e già lo è stato fin troppo, forse, finora. Mi piacerebbe che si capisse e si spiegasse con chiarezza ai cittadini da quali risorse e con quali aumenti di costi se vi saranno e non potranno non esservi si possa bypassare il problema dell'invarianza zero se aumentano le finalità da affidare alle regioni. con quale fiducia potremo sperare che le regioni tutte siano in grado di affrontare questo discorso e se questo non si risolverà, scusate se lo dico dal punto di vista giuridico, non dal punto di vista politico-umano, non si finirà per risolversi in un aiutare chi sta meglio a migliorare la sua posizione continuando a lasciare che chi sta peggio stia come sta. Grazie. Ringrazio i presidenti di Siervo e Flick, non ci sono altre domande o osservazioni, per cui ringrazio ancora, ringrazio il ministro Calderoli per la presenza e chiudo la seduta. No, quasi chiudo la seduta. Prego. Volevo chiedere se lei ha delle informazioni sui tempi della discussione generale in questa commissione, essendo le due audizioni di cui ho appena ascoltato e ringrazio anch'io il professor Flick e De Siervo, le ultime audizioni previste dal nostro calendario. Mi risulta che ci sia un ufficio di presidenza in programma nella giornata di oggi, ma se lei aveva delle anticipazioni da poterci fornire. L'ufficio di presidenza è stato annullato, quello di oggi, però la discussione generale è prevista per domani alle 14. Grazie a voi. Buon lavoro.